11 targhe in memoria dei martiri lancianesi lungo il corridoio del liceo scientifico Galileo Galilei. I nomi di quei ragazzi, i loro volti, le loro storie, il loro sacrificio sono quindi entrati nella quotidianità della vita della scuola rappresentando 11 nuove iscrizioni e 11 nuovi compagni di scuola per gli studenti che avranno un'occasione in più per conoscere la storia di Lanciano, per riflettere sul significato profondo di quelle giornate ottobrine del 1943 per rafforzare il loro senso civico. Il liceo scientifico aggiunge dunque un importante tassello a quell'opera di sensibilizzazione e di impegno che da anni conduce nei confronti della memoria. Professor Luciano Biondi, affinché da queste parti la memoria resti sempre viva? Sì, sì, anche questo è un altro tassello importante che il liceo scientifico pone. Oggi dedicheremo i corridoi del nostro liceo agli 11 martiri lancianesi, in maniera tale che anche i ragazzi che non conoscono le vicende del 5-6 ottobre li incontrino quotidianamente. Per noi è come avere 11 iscritti in più, 11 ragazzi in più, con i quali colloquiare quotidianamente e voglio farlo anche una battuta, i ragazzi nostri possono copiare dai ragazzi del 5-6 ottobre. Grazie. 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 Grazie.